e ora la volta degli arancioni che invece si ispirano direttamente a un film Blues Brother Benvenuti signori a questa improvvisazione abbiamo l'arbitro con la striscia e il maglione abbiamo un busto in congiuntione abbiamo un cerimoniere per la cerimoniazione ma sopra ci diciamo voi, voi, tutti quasi, everybody sono giorni bui come la notte dove vivi come tempo a copione tipo qualcuno che non ti potte e trovi un'illuminazione se nella vita ti senti in manette ricorda i tempi dell'aquilone ti sembreranno un po' meno strette così ti c'erano dell'arancione a la 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 E' la razione! E' la razione, ancora! E' la razione, ci vuole l'emozione, ci vuole l'emozione! À la razione, ancora! A la razione, ancora! E' la razione, ancora! E' la razione!